E' Steve e Maggie in Italia Oh, hey, Maggie, ma dove stiamo andando? Lo vedrai! Oh, hey, ma questo posto è spaventoso, non mi piace! Oh, siamo arrivati! Cosa? Oh, Maggie, dai, aspettami! Oh, dov'è quel cattivo, cattivo pennuto? Maggie, dove sei? Maggie, ma dove sei? Oh, hey, ciao, bim, bim, bim! Maggie è da qualche parte in questa casa! Oh, è una casa spaventosa, vero? Avete paura? No? Neanche io ho paura! Deve essere Maggie! Dai, andiamo a cercare Maggie! Eh, dai, Maggie! Maggie! Maggie, dove sei? Oh, oh! Oh, no! Hey, bimbi e bimbe! Questa è una casa spaventosissima! Oh! Che cos'è questo? Che cos'è? Che cos'è? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quella? Che sono questi? Che sono questi? Che sono questi? Che sono questi? Che sono quelli? Che sono quelli? Che sono quelli? Che sono quelli? Questa è una sirena, sirena, sirena! Quella è una sirena, sirena, sirena! Queste sono sirene, sirene, sirene! Quelle sono sirene, sirene, sirene! Aver paura dal wind Quando streghe e mostre riescono a giocare Ehi, ma chi ha spento le luci? Oh, e dov'è Maggie? Maggie! Oh, dov'è quel cattivo, cattivo pennuto? Maggie! Dove sei? Oh, che cos'è questo? Che cos'è questo, bimbe e bimbe? Che cos'è? Cos'è questo, cos'è questo, cos'è questo, cos'è questo? Cos'è quello, cos'è quello, cos'è quello, cos'è quello? Che sono questi, che sono questi, che sono questi, che sono questi? Che sono quelli, che sono quelli, che sono quelli, che sono quelli? Questo è un drago, è un drago, un drago! Quello è un drago, un drago, un drago! Questi sono draghi, sono draghi, sono draghi! Quelli sono draghi! Draghi, draghi! Non aver paura ad Halloween! Quando streghe e mostre riescono a giocare! Che casa strana! Oh no! E adesso in che direzione vado? Di qua o di là? Credo proprio che andrò di qua! Oh, ma dov'è Maggie? Maggie! Dove sei? Hey! Cos'è questo, bimbe, bimbe? Oh, che cos'è? Oh! Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Che sono questi? Che sono questi? Che sono questi? Che sono quelli che sono quelli che sono quelli che sono quelli! Questo è un pirata, un pirata, un pirata! Quello pirata, un pirata, un pirata! Così sono pirata, un pirata, un pirata, un pirata! Quello che sono pirata, un pirata, un pirata, un pirata! non aver paura ad halloween quando streghe e mostri riescono a giocare oh sarà forse qua maggie? maggie? sei qua? oh ciao bimbi e bimbe cosa ci sarà in questa stanza? non riesco a vedere niente spero non ci sia niente di spaventoso oh come on che cos'è questo? che cos'è? che cos'è? cos'è questo? cos'è questo? cos'è quello? cos'è quello? che sono questi? che sono quelli? che sono quelli? che sono quelli? questo è un alieno alieno Alieno! Quello è un alieno! 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 Questi sono alieni! 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 Quelli sono alieni! 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 Non aver paura d'Halloween quando streghe e mostri riescono a giocare! Ehi, aspetta! Dove stanno andando gli alieni? Forse loro hanno preso Monkey! Ehi! Oh no! Dove sono andati? Sono passati per questa porta? Questa porta? Oh, questa porta! Quale porta? Questa qua? Davvero? Ok! Oh! Si sta aprendo! Maggie! Sei là dentro? Maggie! Sei qua dentro? Buon Halloween! Ahahahah! Avrà che avrà! Ahahah! Oh oh! Wow! È una festa di Halloween! Oh oh! E io sono un vampiro! Wow! Ma non spaventarti! No! Perché io non mi sono spaventato! Nella casa maledetta! Davvero? No! No! Buon Halloween a tutti! Ehi! Divertiamoci! Buon Halloween! Wow! Oh! Bella nostra Steve! Ahah! Bagliamo! Oh 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 oh!